A Vetrana continua ad organizzare iniziative contro lo scarico a mare contro il sito del depuratore consortile previsto nei pressi della zona residenziale Urmo-Belsito. All'incontro, anche per fare il punto della situazione, erano stati invitati anche i capigruppo di Manduria, ma ancora una volta non si sono presentati. Ancora una riunione organizzativa per decidere le prossime iniziative che saranno attuate contro lo scarico a mare e la realizzazione nei pressi del territorio di A Vetrana. Sì, questa riunione è stata organizzata perché abbiamo chiesto a tutti i capigruppi, anche di Manduria, la loro presenza per fare una decisione, prendere una decisione univoca tra tutti. Purtroppo nessuno è venuto, quindi è come se del territorio nostro, del mare, dell'inquinamento, nessuno si interessa. Comunque noi ugualmente andremo avanti, la nostra proposta è quella innanzitutto di organizzare adesso un incontro a Bari. Oltre questo chiederemo a questo punto anche una convocazione istituzionale di tutte le forze, sia politiche e di tutti coloro che si interessano di questo problema. Quindi dall'acquedotto pugliese, all'assessore, sia all'ambiente e sia ai lavori pubblici e anche dell'Arneo perché è la parte fondamentale che dovrebbe poi gestire questo scarico che non dovrebbe andare più a mare. Quest'acqua non deve andare a mare. Questa seconda figura fino adesso è stata sempre ignorata. Quindi è inutile che loro dicano che andrà soltanto a mare l'acqua di più, ma se non abbiamo un accordo con la seconda figura, con quelli che devono prendere, quindi con l'Arneo, quindi noi andremo a mare al 100%. Quindi è soltanto un prenderci in giro. Allora chiederemo un accordo istituzionale affinché realmente si metta nero su bianco su come saranno portate tutte le procedure fino alla sua risoluzione di questo problema. Queste sono le nostre iniziative. Senza la collaborazione di Manduria sembra in salita questa battaglia? Noi andremo ugualmente avanti senza anche l'appoggio di Manduria perché Manduria a livello istituzionale molto probabilmente non è d'accordo a questa nostra iniziativa. Perché la gente condivide questa idea, perché la gente vuole che realmente il nostro mare, che fino ad oggi è stato da tutti i politici fino ad oggi ignorato, c'è Manduria, si comporta con le nostre marine come se loro non avessero mare. Tant'è vero che uno basta che fa un giro verso le marine, si trova con strade sterrate, non c'è illuminazione, non c'è pulizia delle spiagge o avviene soltanto quando la stagione sta per finire. Quindi Manduria non ha proprio l'idea delle marine, non ha l'idea di che cosa è quella bellezza naturale che ci è stata data dalla natura. Proprio grazie alla loro, come devo dire, alla loro superficialità, al loro abbandono, noi ci troviamo oggi con un patrimonio naturalistico che è invidiabile da tutti. Perché noi abbiamo veramente un patrimonio naturalistico con le saline e tutto il nostro mare che è bellissimo. E Manduria purtroppo adesso con questa scelta bruttissima, quella di andare a buttare le acque non depurate, perché è inutile che ci prendano in giro, dicono no, andrà l'acqua depurata in tabella 4 a mare. No, perché la comunità europea non ti fa andare la tabella 4 a mare, ti farà andare sempre la tabella 1. Quindi sarà acqua frullata e mandata a mare. Questo è il problema, ci rovinerebbero tutta la nostra zona. Manduria evidenzia uno scollamento tra quella che è la classe politica e quello che è la popolazione. Perché oggi non si è presentato nessun esponente politico qui in questa riunione a dirci qual è la posizione politica di Manduria rispetto allo scarico a mare e alla posizione del depuratore consortile. Noi riteniamo che questo sia un atto non bello da parte dei politici di Manduria, che hanno detto di avere una riunione politica abbastanza importante, però potevano anche perlomeno farcelo sapere, avremmo spostato l'incontro. Ed evidenzia uno scollamento con la popolazione, perché io non credo che nessuno a Manduria possa come popolazione volere lo scarico a mare. Io vorrei ricordare agli amministratori di Manduria che in qualche modo possono con lo scarico a mare svendere 18 chilometri di costa. È una risorsa economica notevole, l'unica risorsa economica notevole di questo territorio, semplicemente in cambio di non so che cosa. E credo che debbano sentire la loro popolazione che non può essere d'accordo con lo scarico a mare e debbano obbligatoriamente sentire la popolazione di Avetrana. Come la popolazione di Avetrana comincerà a farsi sentire anche nelle altre sedi istituzionali. Perché lunedì 21 c'è una riunione pare informale tra i sindaci di Avetrana, Manduri e Sava con gli assessori del territorio a Bari, a cui noi abbiamo detto che parteciperemo e cercheremo di partecipare non in massa, perché i tempi sono stretti per organizzare una partecipazione di massa, ma certamente come tutti i colori politici. In modo tale da ribadire che qualunque sia lo scambio che vogliono darci, affinamento in tabella 4, possibile riutilizzo in agricoltura, va tutto benissimo sempre e soltanto se tolgono lo scarico a mare. Perché noi riteriamo che lo scarico a mare sia comunque dannoso, anche dimostrato da tutti gli scarichi a mare che già ci sono, e che recano nell'economia dei posti un assoluto danno evidente. Allora io mi chiedo se questo territorio si può basare solo sull'agricoltura e sul turismo, se noi cominciamo a minare questi due settori, mi chiedo come faremo a sopravvivere dal punto di vista economico e se l'emigrazione dovrà essere l'ultima nostra risorsa. A questo punto questo comitato istituzionale diventa una garanzia anche per Manduria, per portare le istanze della popolazione? Ma avremmo previsto oggi la presenza dei capigruppi di Manduria, ma li perdoniamo perché c'è la crisi amministrativa, quindi sono giustamente e lodevolmente giustificati questa volta. La prossima volta speriamo che intorno al tavolo istituzionale, che tanto proposizione sta dando per il depuratore come no allo scarico a mare, sta portando dei frutti abbastanza importanti perché vediamo coesione, progettualità e vediamo anche che il prossimo 21 ci sarà un incontro a Bari dove il tavolo istituzionale sarà presente non soltanto nell'incontro informale con il sindaco di Sava di Manduria, con il signor sindaco e anche due esponenti del tavolo istituzionale che presenteranno ufficialmente un documento che è stato redatto questa sera. In più una volta, credo, speriamo, presenza di cittadini di Avetrana e anche di Manduria, cerchiamo di stare lì a sostenere questo incontro con quel famoso no scarico a mare, creando alternative, dichiariamo anche che non siamo anticivili o incivili nel dire no scarico a mare. Noi siamo a foro del depuratore, ma siamo anche per una civiltà dell'osservanza e prevenzione per i danni che potrebbero provocare questo depuratore con lo scarico a mare che detuterebbe tutto ciò che il creato ci ha donato. Il problema è talmente serio che ci va di mezzo anche il futuro delle nostre generazioni. Quello che io chiedo come tavolo istituzionale per chi mi conosce, la sincerità e la verità intorno a queste cose. Non si scherza, ci va di mezzo la salute, ci va di mezzo il futuro del turismo locale e ci va di mezzo anche la nostra donna è dignità, ma non per chi ha proposto non ha dignità, ma bisogna stare al passo dei tempi guardando anche quelli che sono i danni che creano in altri ambiti.